come si sente dopo sei qualificato con te molto contento si si mi sento molto bene perché non ho fatto molto esforzo e ho lavorato a questo momento per domani bisogna andare molto molto veloce ti senti bene per andare veloce si si mi sento molto bene, excelente grazie grazie